allora oggi vedremo come si fa a giocare con toby in maniera corretta per chi non lo conoscesse toby è un border code in mezzo molto vivace e anche molto ruffiante le volte allora che cosa possiamo fare iniziamo col seduto toby seduto vieni qui seduto bravo adesso con il zampa zampa bravo toby oppure questo toby stai fermo 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 bravo vieni bravo toby oppure che ne so toby gira gira bravo toby bravo altrimenti rotola toby giù giù rotola e bravo toby ok cosa possiamo fare di fare adesso la palla ok gli si fa vedere la palla e poi vai quando arriva non bisogna fargli vedere l'altra palla perché altrimenti guarda che lo succede o di solito cosa fa lui mentre sta per arrivare la lascia la metà strada e quindi loro ci tocca quando non riprenda in questo caso non l'ha fatto molto bene toby bravo vai lascia ormai non lo fa più perché aveva capito finalmente come si fa molto bravo toby tieni vai poi cos'altro sa fare toby toby sta seguimi al passo stammi vicino fermo fermo vieni fermo stai fermo e vieni bravo toby bravo ben fatto sei seduto e zampa bravo questo era toby ragazzi e vuole giocare ah dimenticavo lascia vieni qui lascia 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 toby lascia fermo 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 lascia 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 toby bravo